Commenta il fatto del giorno Enzo D'Antona, direttore di Il Piccolo. Jean-Paul Sartre, bandiera degli intellettuali del secondo novecento. Jean-Paul Sartre, vero emblema degli intellettuali di sinistra nella seconda metà del novecento. Sartre era figlio di un militare cattolico e aveva un'infanzia difficile. Non ci vedeva da un occhio, era un narcisista, è stata una sociale vittima di bullismo nelle scuole. Tuttavia era un grande studioso, si era formato prima a Parigi, poi alla scuola di Heidegger. E poi, dopo aver conosciuto Simone de Beauvoir, che è stata la sua compagna per tutta la vita, rielaborò i concetti esistenzialisti basati sulla vanità della ricerca della libertà, li rielaborò in senso anche marxista e diventò a poco a poco il grande organizzatore dell'esistenzialismo, della cultura dell'esistenzialismo. I suoi meriti ovviamente vanno al di là della sua bravura di filosofo o della sua bravura di scrittore, ricordiamo la nausea, un grande capolavoro, perché poi lui fu in realtà un intellettuale completo, cominciò a scrivere canzoni per Juliette Gréco, creò assieme a Bertrand Russell il primo dei tribunali dei diritti umani. Sartre riaffermò un principio importantissimo, che era quello dell'impegno, della responsabilità dell'intellettuale nel suo tempo. Cioè l'intellettuale non doveva stare zitto, come diciamo oggi, non doveva guardare al proprio ombelico, ma doveva contestualizzarsi. Questa fu la grande innovazione di Jean-Paul Sartre, che poi venne addirittura sovrastato dal suo esistenzialismo, perché lui rifiutò la legion d'onore, rifiutò il Nobel, poi l'esistenzialismo divampò come una grande moda. Tutti oggi ci ricordiamo dell'esistenzialismo francese degli anni 50, europeo degli anni 50. San Germain de Pré era semplicemente il luogo in cui abitava Sartre, diventò il cuore dell'esistenzialismo mondiale, diventò una grande moda, quindi diciamo che il fenomeno diventò di costume, più che culturale. E comunque questo piccolo grande uomo, ai suoi funerali, vide 50.000 persone che lo acclamavano. Ed erano dolorate per la sua morte.